Ciao a tutti ragazzi, sono Petruo, Igor e Tanke. E sei in X-Ray, perché stai parlando così? Che mi tocca parlare anche a me così? E perché tu sei nudo? Oh, non sono nudo. Dovrei fargli una foto. Guarda, ci sono due... fammi una foto. Ma non sappiamo come... Oh, studio, studio. Allora, dunque, questa qui... Come da te? Ah, dominio nelle mappe a Preezing. Ecco, per l'uscita studio. Stavo dicendo, che bello è l'uscita studio. Ma a me non mi hai ancora fatto fare... Oh, va, 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 va. Ci sta, dimmi che sono... Mi qui... Mamma mia, qui... Siamo... No! Scusa. Siamo insieme ad altri due che sono al Master Prestigio. Dai che qui si fa... 100 più. 100 più. Morto 100 volte più. Porca miseria, io ci ho provato. Ragazzi, i miei impegni... Ma che c'è qui mi mi sa... Non so che non sa per lobi. Sì, però non vale. Vabbè, allora arrivame da dietro facciamo dei miei impegni. Tantone che c'è fotte. Ma che c'è fotte. Ma che c'è frega. Ma che c'è fotte. Che c'è fotte. Ben c'è chi... Il miei impegni ogni volta a Paretto. Tantone che c'è fotte. Ma già... Ma già hanno già morti. Eh, beh, ma anche se... Ma questo... vincenzo ma c'è chi lo sa di sasso con i conti prendiamo il sito ma sono basso perchè se c'è chi ancora o forse non ho fatto Sì, non ho ancora fatto nulla più Nooo, chi è che mi ha ucciso? Vale, senti male senza l'HDMI Sì Ma se ci rubiamo la loro bandiera Saremo dei ladruncoli, bulletti Giusto, e allora la prendiamo Prendo anch'io, va? Così prendo gli approvvigionamenti Guardano con la pistola Che schifosi dei cecchini Io ho gli approvvigionamenti all'anello Sì, ma io gli approvvigionamenti non li metto Sai la mia storia che vuoi vivi set Sì, sì Io comunque ce li ho Ah, però non ho genieri, caspita Bello schifo senza genieri Vabbè, ho luovi comunque Uh, mi impicco Eh Mi sono riuscito Dovrei avere Dovrei prendere anch'io qualcosa col cecchino Ma dato che non sono capace di usarlo Non lo faccio Ma eh Guardate Prendiamo bravo Perdiamo, c'è fino Perdiamo, c'è Non sè dove andare Non va bene se è così Oh, ecco S'è l'ho visto non so tu qui di umpa loompa ma dov'era? l'ho fatto io tranquillo ma non è ucciso quello lì si è ucciso quello e lui e l'altro non è ucciso tu stavi vedendo la mappa come ha fatto che senso? era chi che guardava i pirati ma guarda l'ho visto mi stavo ricaricando dovesti smettere di metterti le palline in gola la prossima volta niente palline no ma sono buone eh non so ma ti fanno male all'alito ma che c'entra a parte che non le prendo le palline in gola prendo solo sai quello che prendiamo in gola la manana i cornetti che cavolo non è morto stupidi cecchini con le pistole ma che pistole? mangiatevele non so infilatevele in buchi dove non batte il sole bocca va bene guardali sono pistole mamma che schifosi non è possibile gioco contro cecchini così non sono cecchini sono pistole sono dei pistola ho distrutto il loro guardia beh era loro banana ho distrutto il loro guardia è bella loro ho detto bella era loro anche se spezzo spezzo spesso che cosa spezzare no sai se sai che uno è lì tu continui a sparare sulla porta prima poi uscirà ah certo ah che bella tecnica ce l'ho fatto dire proprio che è una bella idea questo che l'ho appena ucciso infatti ha sparato col tamocca ha ucciso quello poi boh che sono uscito tranquillo l'ho ucciso l'ho ucciso quello lì a destra l'ho ucciso ah l'ho ucciso il cecchino e allora il cecchino avrebbe fatto l'ucciso dalla vittoria e allora dovete sapere ma porca miseria le coniglietti e le conigliette c'è paura di messia a sto ho proprio sbagliato direzione chi mi ha ucciso quello con la pistola sempre e mi fanno a cercare dove muoio questa è una cosa ovvia camber dobbiamo io la bandiera dai mamma che schifo mi fanno proprio schifo sti pressanti è banana che stanno dominando sono navi non barbi non navi non vuol dire che non le armi schifose ma boh non so cos'è giusto che erano ma 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 mi mamma ma no ma no ma ma il massimo il massimo con la testa sulla testa con la testa culo in testa c'è il barbano sei io arrivo nel punto dove ci sono i miei cittadini tutti più di 100 uccisioni basta, mi obbligano a usare il cecchino mi obbligano a usare il il mio tar hai buttato il mio tar non ancora, non capisco porca miseria ma non è possibile mi giro ovunque e c'è un nemico 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 cuci 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 nemico non vedo niente non vedo niente il nemico ho trovato c'è paura quando vedo il nemico un cecchino che mira questo che sembrava stiamo perdendo lo scontro stiamo perdendo lo scontro prendiamo a 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 risultati che abbia mai fatto perchè? eh perchè quelli esplodono tu ho deciso me che c'è di te che è uscito sulla testa eh questo è negro io quanto ne ho fatta oh oh 12-29 vabbè è stato bello vi facciamo sentire la canzone città ti avevo promesso no io 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 però non parla ta si parla la 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 vabbè dai ciao a tutti ragazzi ciao ciao